Vorrei parlarvi della community di Booktuber, questo gruppo di persone che hanno trovato il modo di diffondere la loro passione, di parlare di libri, di ciò che adorano fare nel tempo libero su youtube, su una piattaforma che gli permette non solo di raccontare ma anche di ricevere parevi in cambio, quindi di condividere propriamente le loro letture. È un buon modo di scoprire nuovi libri senza dubbio, un buon modo anche di essere stimolati a parlarne, quindi se non conoscete la piattaforma vi consiglio di dare un'occhiata perché è ricca di ragazzi e ragazze giovani che condividono questa passione e parlano di ciò che adorano fare.